Appena ieri l'annuncio di un nuovo caso di positività nel gruppo squadra del Pescara. A controbilanciarlo nel pomeriggio odierno la notizia della prima negativizzazione. Nel giro di neanche 24 ore il bilancio degli attuali positivi torna ad 8, 7 calciatori più un componente dello staff. Il comunicato diramato dal Pescara recita torna negativo dopo aver svolto il tampone di conferma questa mattina uno degli otto ragazzi del gruppo squadra che nei giorni scorsi erano risultati positivi al test covid-19. Sempre in mattinata esami sierologici per staff e giocatori che continuano la preparazione in modalità individuale al Delfino Training Center in attesa di eventuale permesso da parte della ASL di Pescara per svolgere allenamenti collettivi in vista della partita. Domani mattina previsti ulteriori tamponi e allenamento nel pomeriggio. Questa negativizzazione riapre dunque spiragli per poter chiedere alla ASL un allentamento anticipato delle misure. sarebbe importante tornare a fare allenamenti collettivi perché i calciatori potrebbero riguadagnare quel po' di abitudine ai movimenti di reparto e alle distanze del campo che in parte si possono perdere dopo oltre dieci giorni di lavoro fatto solo individualmente. Per il Pescara si avvicina il momento della verità cinque partite in 14 giorni ma la necessità di fare sette o nove punti nelle prossime tre che sono scontri diretti. Dopo il recupero con l'Entella la trasferta di Cosenza quindi di nuovo all'Adriatico con la Reggiana. Il piano del Pescara per arrivare ai play out prevede di battere l'Entella ultima della classe e nelle successive quattro partite cercare di fare due punti in più dell'Ascoli e mettersi alle spalle Cosenza e Reggiana. Facile a dirsi complicatissimo a farsi specie con tutte le incognite che questo stop si porterà dietro. L'Entella è spacciata ma Pescara arriverà recuperando uno dei suoi pilastri il centrocampista pescarese Paolucci e avrà in panchina il neo allenatore Volpe chiamato al posto di Vivarini. Con lo spirito di giocarsela con la serenità di chi non ha nulla da perdere ed ha lavorato a pieno regime in questi giorni. Una partita ben più difficile insomma di quanto possa far pensare la classifica.